Ciao a tutti da Chris Attigez, salutatore del blog, eccomi con la bravissima, bellissima Maria Grazia Cucinotta. Ciao, vi aspetto al cinema dall'11 dicembre, ma tu di che segno sei? Ce lo vieni a dire al cinema? Ciao a tutti, salutiamo tutti gli utenti su tutti i social network, YouTube, Facebook, Twitter. Tutti, tutti, viva il web. Tu ci sei? Io ci sono. Qual è quello tuo ufficiale che segui tu? Guarda, ci sono su Facebook, ci sono su YouTube, ci sono su Twitter, ci sono su Instagram, mi trovate. Tanto lo vedi quello mio, vero? Perché lo aggiorno continuamente. Perfetto, perciò un saluto a tutti dalla grandissima, Maria Grazia Cucinotta. Vi aspetto al cinema l'11 dicembre, ma tutti che segno sei? Ciao! Ciao! Ciao!